Gentili telespettatori, buona giornata. C'è la data dell'inizio di un percorso di abolizione del Green Pass, rafforzato, non rafforzato, basico, Green Pass VIP, tutte quelle cose lì, il Green Pass VIP non esiste ovviamente, lo dicevo per fare uno scherzo. Il percorso di abolizione di questo strumento politico inizia il 31 di marzo, ma servirà ancora per mesi in alcuni luoghi di lavoro. È un percorso graduale di eliminazione che comincerà il 31 di marzo in concomitanza con la scadenza dello stato di emergenza, ma non si completerà prima del 15 di giugno e al lavoro potrebbe rimanere anche durante l'estate. Sempre che la curva epidemiologica continuerà in discesa, ma su questo io non ho nessun dubbio, visti i dati invernali, figuriamoci d'estate. Se d'inverno la pandemia regredisce, figuriamoci adesso che si cominceranno ad aprire le finestre e scoprirà il caldo, no? Si partirà certamente dai luoghi all'aperto e poi alla fine l'ultimo Green Pass che verrà eliminato sarà quello sul posto di lavoro. Anche tenendo che l'obbligo vaccinale scade proprio il 15 di giugno e sembrerebbe proprio che il governo non abbia nessuna intenzione di toglierlo, perché vuole costringere le persone a correre a fare il vaccino per poter avere lo stipendio e mangiare, perché da oggi 500 mila, mezzo milione di italiani sono sospesi dal lavoro senza stipendio per quattro mesi se non corrono a farsi il vaccino. Però in alcuni luoghi può rimanere anche nel corso dell'estate il Green Pass. Dobbiamo, dice Andrea Costa, sottosegretaria alla Saluta, dobbiamo completare la somministrazione delle terzi dose per completare la campagna vaccinale. Procedendo con questo ritmo è assolutamente ragionevole pensare che per marzo potremmo avere completato l'operazione, aprendo un nuovo scenario con progressivo allentamento delle misure restrittive, Green Pass compreso. Allora, dal primo di aprile, che coincide con il pesce d'aprile, il primo di aprile potrebbe essere tolto l'obbligo per mangiare all'aperto. Quindi primo di aprile, il giorno dopo, il 31 di marzo, potrebbe essere tolto questo. Quindi a primo di aprile c'è caldo, una parte dei ristoranti ha i posti fuori, altri no, si potrà mangiare fuori. Soltanto in seguito si voleterà quando eliminare l'obbligo per i locali al chiuso. In cima alla lista ci sono anche i luoghi all'aperto dove si svolge l'attività sportiva, come i circoli, mentre le palestre saranno probabilmente in fondo all'elenco. Tra gli ultimi anche le piscine. Palestre e piscine in fondo, ma non so, la partita di calcetto, la partita di pallone. Sì, magari. La partita di tennis. La partita di tennis si può fare, ma in piscina non si può. Pertanto poi cinema e teatri, anche per cinema e teatri al chiuso c'è l'intenzione di agire con prudenza, con giudizio, lasciando invece maggiore libertà per le arene dove potrebbe essere stabilito l'ingresso libero a giugno. La certificazione continua ad essere obbligatoria per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza e per quelli del trasporto pubblico locale. Aperta è la discussione su negozi dove serve almeno il Green Pass base. Se la curva epidemiologica sarà in netta discesa, sicuramente sarà così, l'ipotesi più probabile è l'eliminazione del certificato lasciando la regola degli ingressi contingentati già ad aprile. Mentre per i lavoratori, il Green Pass base per i lavoratori, quello con tampone, sarà una delle ultime misure ad essere allentate. Il 15 giugno scade l'obbligo di vaccino per gli over 50 e prima di quella data pare impossibile che si possa eliminare il controllo per l'ingresso in fabbriche uffici senza escludere che si decida di prorogarlo anche nei mesi successivi, visto che la riduzione dello smart working fa rientrare in sede la maggior parte dei dipendenti. Il governo è intenzionato ad insistere con le restrizioni per i non vaccinati per cercare di portarli alla vaccinazione. Quindi chi ha meno di 50 anni e deve andare a lavorare deve continuare a fare il tampone, un giorno sì, un giorno no, con dei costi abbastanza alti. Quindi chi ha meno di 50 anni deve continuare a fare il tampone. Chi ha più di 50 anni viene sospeso dal lavoro perché non ha fatto il vaccino o non è guarito. Quindi vogliono mantenere fino al 15 giugno questo. In più pensano magari anche di prolungare questa misura dell'obbligo vaccinale e del tampone col Green Pass base per entrare sui posti di lavoro. Quindi potrebbero portare anche a oltre l'estate l'utilizzo del Green Pass per entrare al lavoro. Questo viene fatto esclusivamente per indurre queste persone con la stretta economica perché a quelli che hanno più di 50 anni gli tolgo lo stipendio, a quelli che hanno meno di 50 anni li costringo a spendere 15, 20, 22 euro di tampone ogni giorno sì e un giorno no, li prendo con la parte economica. Ecco, l'obbligo vaccinale c'è per i 50 anni, c'è una multa di 100 euro, però il fatto è che a parte la multa di 100 euro c'è la sospensione dello stipendio. Naturalmente è per chi lavora. Se una persona ha più di 50 anni non lavora, si vede che vive di rendita, può permettersi di non lavorare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti qui su Teleitalia. Ricordatevi che poi c'è anche l'altro canale che si chiama Teleitalia Seconda Rete qui su YouTube dove trovate video di notizie, di politica, ma anche video di fai da te. Poi i video presenti su YouTube in questi due canali, Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete, li trovate anche su Facebook, nella pagina che si chiama Teleitalia, dove ci sono appunto questi video che se vi sono interessati li potete condividere con chi volete. Mentre nella community di questo canale ci sono diverse notizie, notizie minori, messaggi, di tutto, link per andare sul secondo canale. Arrivederci a tutti e grazie.